ciao a tutti da Davide di Audiocostruzioni questo è il mio diciamo secondo video di presentazione mi occupo essenzialmente di compravendita di hi-fi soprattutto vendita spero ma faccio anche acquisti e scambi e ritiri dell'usato ho un sito internet che si occupa di apparecchiatura hi-fi ma non solo il sito è diventato molto importante è quasi uno dei più visti forse il più visti in italia ci sono tante schede schede di prodotti a varie sezioni alcune che parlano di autocostruzione alcune che parlano di vendita e alcune che spiegano i prodotti poi c'è una sezione di video dove quando riesco faccio queste questi test sui prodotti oltre agli apparecchi il sito è abbastanza specializzato in accessori quindi parliamo di tutta quella accessoristica cavi cavo per alimentazione cavo per diffusori cavo di segnale accessori vari clamp coni sotto coni supporti per elettroniche insomma c'è sul sito potete trovare di tutto e di più vi consiglio di di seguirlo soprattutto seguirlo nella sezione usato occasioni dove presento un po tutto quello che è usato o anche nuovo in offerta i prezzi penso di essere molto molto competitivo e soprattutto cerco di dare un servizio al cliente il servizio al cliente può essere di vari tipi consigli se volete venire a fare un salto qua carpi siete benvenuti potete portare i vostri diffusori le vostre elettroniche fare prove test insomma il servizio è proprio completo nel caso che abbiate bisogno di prodotti diciamo particolari faccio un esempio vi occorrono dei cavi a metratura cavi per diffusori perché avete dei diffusori lontani uno lontano uno vicino la ditta audio costruzioni è in grado di farvi anche i cavi d'alimentazione di vario tipo e di varie lunghezze perché oltre avere sul pronto alcune cose molte diciamo le facciamo anche su ordinazioni particolari se avete dei giradischi da sistemare da tarare è una cosa che possiamo fare sostituzione dei cavi cavi di segnale cavi d'alimentazione oppure se avete esigenze particolari come dei supporti per diffusori particolari a certe altezze oltre avere un diciamo un magazzino piuttosto fornito di queste cose possiamo eventualmente se non avete fretta anche costruirli su misura grazie a tutti